Sono poco più di 70 i casi di occupazione abusiva delle case popolari che si sono verificati negli ultimi decenni a nocere inferiore negli agglomerati urbani che l'ex istituto autonomo case popolari ha costruito nei quartieri Piedimonte e Montvescovado, in alcuni casi anche nei prefabbricati pesanti costruiti nel post terremoto del 1980. Lo hanno accertato gli uffici comunali su sollecitazione del sindaco Maglio Torquato che vuole risolvere questo delicato problema. Nel frattempo è stato dato incarico ad una società specializzata di recuperare i ruoli pregressi. Il consigliere comunale Ilario Capaldo ha inviato una nota al comune invitando il sindaco ad adottare il regolamento regionale per regolarizzare le cosiddette occupazioni improprie o abusive e porta ad esempio quanto fatto dall'amministrazione comunale di Benevento che ha utilizzato lo stesso provvedimento regionale. Alcune case, anche in virtù di questo regolamento, saranno sgomberate per poterle assegnare agli eventi diritto. Si tratta di alloggi occupati da pregiudicati e da persone che sono accusate di collusione o complicità con la criminalità organizzata. La sanatoria regionale esclude infatti persone che sono in corso in questo tipo di reati. Ovvero sanare quelle che sono le cosiddette occupazioni abusive. Quando utilizziamo il termine sanare di solito tutti quanti ci spaventiamo un po'. Però dobbiamo tenere conto di quello che c'è a Montevescovato perché Montevescovato rappresenta una piaga, una piaga da 40 anni e tutte le situazioni di disagio che si sono create nel corso degli anni hanno costretto sicuramente alcune famiglie a rifugiarsi in quei lotti. Ad oggi noi non abbiamo come amministrazione ma anche le altre amministrazioni non hanno mai avuto prontezza della situazione reale. Con il regolamento regionale noi abbiamo l'opportunità di stabilizzare tutti e avere uno screening finalmente completo della situazione di Montevescovato. Ci sono anche altri casi di alloggi ERP sul territorio nocerino che può riguardare. Per quanto riguarda le periferie c'è bisogno di una maggior azione da parte dell'amministrazione e da parte di tutti quanti. In questi giorni proporre anche al sindaco di trasferire il comando vigili urbani a Piedimonte. Se ci sono le condizioni nella vecchia scuola di Chivoli che sono stati inagibili per alcuni aspetti però se riusciamo a mettere a posto la situazione penso che sia una buona idea perché ad oggi dove stanno i vigili urbani ubicati è un casino per il parcheggio, per muoversi loro stessi, per fare gli interventi. Invece Chivoli rappresenta un po' il fulcro, il centro vero e proprio della città perché subito ci si sposta nelle altre zone della periferia tipo San Mauro, Fiano, Cicalesi e subito si arriva al centro. Hanno degli spazi, hanno parcheggi per i propri mezzi e si possono anche muovere diversamente.